Benvenuti alla prima lezione pre-regionali per le olimpiadi di informatica Cosa facciamo qui? Allora, se siete qui è perché volete imparare qualcosa di quanto riguarda la programmazione competitiva che vi possa servire per le olimpiadi italiane e regionali di informatica e partiremo proprio dalle basi teoriche del tutto perché almeno così so di star lavorando con tutti più o meno che hanno un certo minimo livello base Allora, cosa facciamo nelle competizioni di informatica? Nelle competizioni di informatica di solito vengono dati dei problemi e noi vogliamo scrivere un programma che risolva questi problemi cioè vogliamo scrivere un programma tale che possiamo farlo eseguire automaticamente a un computer e che ci risolva quel problema dato un qualunque input che rispetta l'assunzione di quel problema All'inizio useremo l'astrazione del concetto di funzione per pensare ai nostri programmi Cos'è una funzione? Una funzione, diciamo che è un oggetto matematico che prende un qualche input che chiamiamo x e restituisce un qualche output che chiamiamo y la funzione è tale per cui ad ogni input x è associato esattamente un output y quindi non può capitare che una funzione restituisca più di un possibile valore quindi vogliamo iniziare a pensare a risolvere un problema come trovare una funzione che preso l'input del problema ci dia l'output corretto questa sarà la prima stazione matematica che usiamo che in realtà è molto molto potente poi trascriverla in codice è un'altra cosa però cominciamo con le basi concettuali di come fare le cose e bene quindi per esempio che ne so la cosa più banale il problema più banale quello che c'è ad esempio su qualunque sistema di gara per vedere se riuscite quantomeno a sottoporre qualcosa è il problema che vi da in input due numeri e chiede fuori la somma quindi con questa notazione matematica quello che faremo è che potremmo dire per esempio che il programma che ci risolve questo problema è un f di a virgola b e che cosa darà in output? beh darà a più b banale e con questo abbiamo risolto il problema che ci avevamo prefissati normalmente è abbastanza raro trovare dei problemi che sono così banali o comunque che richiedono quella che si chiama che io chiamo una formula chiusa cioè un qualcosa che prende questi parametri di input ci fa proprio dei purissimi calcoli matematici così che possono essere somme moltiplicazioni tutte quante in una riga così e trova la risposta è abbastanza raro e di solito se ci sono problemi del genere sono bruttini quello che rende veramente interessanti le funzioni da utilizzare per risolvere i problemi è il concetto di ricorsione ovvero il concetto di avere una funzione che può essere computata in termini di se stessa ad esempio partiamo con un problema giocattolo il primo problema giocattolo è abbiamo degli oggetti chiamiamo che ne so A, B, C, D per dire abbiamo degli oggetti e vogliamo trovare in quanti modi diversi possiamo mettere in sequenza questi oggetti cioè in quanti modi distinti possiamo mettere in sequenza questi oggetti quindi cosa c'è? per esempio se gli oggetti fossero tre abbiamo A, B, C A, C, B B, A, C B, C, A C, A, B e C, B, A ok? e che per chi lo sapesse già chi l'avesse già fatto in matematica questo qua sono le permutazioni di base rispondere a questa domanda quindi la domanda è dati n oggetti in quanti modi distinti posso disporre in sequenza questi oggetti questa è la domanda a cui vogliamo rispondere il problema detta così non c'è una risposta ovvia qua li abbiamo innumerati tutti a mano abbiamo visto che sono sei magari migliore ok perfetto abbiamo visto che sono sei però ok sì cioè tipo se dovessimo fare con quattro potremmo scriverne quattro a mano cercare di trovare tutte quante le possibili permutazioni si chiama permutazioni contarle e trovare la risposta però questo qua è un metodo molto spannometrico di risolvere il problema vogliamo trovare un approccio un pochino più sistematico allora chiamiamo f la funzione che vogliamo che risolva questo problema questa f è quella funzione che risponde alla domanda se io ho n oggetti in quanti modi distinti posso disporli quindi quante sono le permutazioni di ogni oggetti e come ben detto non sappiamo rispondere a questa domanda così a priori però tuttavia per ogni problema c'è sempre una qualche istanza di quel problema un qualche caso di quel problema che è talmente semplice che possiamo risolverlo a mano diciamo qual è un caso veramente veramente semplice di questo problema qual è la cosa che possiamo dire ah la risposta è sicuramente questa beh una prima cosa potrebbe essere se abbiamo un oggetto se abbiamo un oggetto quindi solo a è abbastanza facile rispondere a questa domanda è uno abbiamo già la risposta questo è quello che in questo frame che sto spiegando qui la ricorsione chiamiamo il caso base ovvero un'istanza del problema intanto qua c'è il puntatore laser bellissimo un'istanza del problema che sappiamo risolvere arbitrariamente che sappiamo risolvere a mano che sappiamo risolvere in modo balordo in modo facile ok quindi questo cerco di scriverlo recentemente è il caso base ok cos'è a questo punto la ricorsione la ricorsione è il poterci permettere di scrivere cosa calcola una funzione in termini di se stessa cosa voglio dire ad esempio non che sia la risposta a questa domanda ma potrei scrivere che ad esempio il valore di questa funzione per n è il valore della funzione con parametro n-1 più 1 quindi non è più una funzione che possiamo calcolare così direttamente dove ci sono solo dei numeri o ci sono solo delle cose che dobbiamo spostare dentro e sappiamo la risposta è una funzione che quando vogliamo calcolare sì questo più 1 ce l'abbiamo già ma per calcolare questo cosa dobbiamo fare è dobbiamo andare dentro e calcolare quanto vale f di meno 1 che a questo punto cosa sarà se è definito in questo modo sarà f di qua dentro ce lo devo mettere quindi sarà f di n-2 perché se ho n-1 cioè se qua sottraggo ancora 1 a questo mi viene n-2 allora cosa faccio e vado avanti così fin quando vado avanti fin quando questa funzione beccherà un certo caso base mettiamo che il caso base sia f di 0 uguale a 0 allora quando poi abbiamo il valore per questa funzione in un qualche in un qualche punto in questo caso a 0 possiamo cominciare a tornare su e a sostituire il valore che abbiamo trovato per la funzione al posto del di quando questa funzione l'avevamo scritta qua quindi per esempio qua conosceremo il valore con questo conosciamo il valore di f di n-1 lo sostituiamo qua sopra e abbiamo trovato il valore cioè lo sostituiamo qua sopra e così possiamo trovare il valore di f di n questo come funziona la ricorsione in generale comunque siamo proprio agli inizi bene detto ciò come facciamo a risolvere il nostro problema quindi abbiamo detto che vogliamo trovare questa funzione f di n che ci dice in quanti modi distinti possiamo mettere in sequenza gli elementi quindi quante sono le prenotazioni degli elementi come potremmo fare vogliamo in qualche modo dato un problema data un'istanza di questo problema che è difficile quindi possiamo pensarla per un n generico cioè noi a priori non sappiamo come ordinare tipo quante sono le prenotazioni di 4 elementi di 7 elementi non lo sappiamo vogliamo cercare di scomporre questo problema in modo da rimandarlo a istanze più semplici di questo problema perché c'è questa nozione abbastanza intuitiva del fatto che più l'istanza è piccola del problema quindi in questo caso più n è piccolo e in un qualche modo più il problema è semplice e questa è una nozione abbastanza intuitiva perché se ci pensate se vi dessi da risolvere a mano questo problema per n uguale a 3 n uguale a 4 lo fate abbastanza tranquillamente a mano se lo do per n uguale a 7 comincia a diventare un po' difficile se lo do per n uguale a 50 diventa quasi impossibile farlo a mano quindi c'è questa nozione e cerchiamo di sfruttare questa nozione per prendere un problema tosto per prendere un'istanza tosta di questo problema per prendere un'istanza grossa e cercarla di spaccarla in pezzettini più piccoli quindi più semplici che poi sappiamo ricomporre per trovare la risposta al nostro problema marginale allora ad esempio qua qual è l'idea che se io ho n oggetti come saranno fatte queste possibili sequenze mettiamo che in questo caso mettiamo che n uguale a 4 quindi avrò a b c d ok poi ce n ho tante 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 poi ad una certa avrò b che ne so per esempio a d c poi hanno tante 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 e anche altre cose cioè tutte quante mettiamo saranno 24 credo cosa possiamo notare beh possiamo notare magari riscrivo la sequenza di prima così almeno possiamo proprio notarlo esplicitamente quindi quella per n uguale a 3 e a c b c a c a b e c b a ok cosa possiamo notare come sono fatte come sono fatte queste sequenze beh abbiamo un blocco che inizia tutto con a poi abbiamo un blocco che inizia tutto con b e poi abbiamo un blocco che inizia tutto con c questo non è casuale non è a caso che succede perché come la possiamo pensare come sarà fatte come saranno fatte le sequenze lunghe n beh ci saranno tante che iniziano con il primo simbolo tante che iniziano col secondo simbolo tante che iniziano col terzo simbolo eccetera eccetera ma se il primo simbolo se in questo caso a l'abbiamo messo qua beh sicuramente non può più apparire nel resto della sequenza perché l'abbiamo già messo stessa cosa se qui per esempio c se l'abbiamo preso e beh non potrà mai più apparire nel resto della sequenza allora cosa possiamo pensare beh la risposta cosa sarà possiamo prendere a ok quindi fissiamo il primo elemento e poi diciamo beh e poi quanti saranno quante saranno le sequenze che iniziano con a e beh se se questa funzione risponde alla nostra domanda ok se stiamo subendo che questa è la funzione che risponde alla nostra domanda beh saranno f di n meno 1 perché mi sto chiedendo praticamente quante sono le permutazioni di n meno 1 elementi e qua stessa cosa qua ho fissato un altro simbolo in questo caso b però i simboli che che mi rimangono da da mettere in ordine sono comunque n meno 1 quindi di nuovo la risposta sarà f di n meno 1 anche per questo blocco e così via ma quindi quante sono in totale beh fisso 1 e sono n meno 1 fisso un altro e sono n meno 1 fisso un altro e sono n meno 1 quanti sono che posso fissare n devo ordinare questi n elementi devo scegliere l'ordine in cui mettere questi n elementi e quindi queste qua saranno n ma allora ma allora la nostra funzione cos'è possiamo dire che possiamo possiamo dire che i modi in cui possiamo mettere in ordine i modi in cui possiamo dare un ordine a n elementi saranno n per f di n meno 1 fin qua tutto chiara qualcuno ha domande? controllo un attimo se per caso testualmente qualcuno ce la fa no ok c'erano un po' di problemi tecnici ma vedo che li avete risolti perché l'ultimo stagio è 10 minuti fa ok questo qua lo chiamiamo il o caso ricorsivo o caso generale li chiamerò in modo indistinto o caso ricorsivo o generale e o anche induttivo e anche caso ogni tanto invece di caso si chiama passo tutto interscambiabile questa nomenclatura non è veramente importante comunque questo qua il concetto fondamentale è che il passo base o caso base è un'istanza del problema che è talmente semplice che sappiamo risolverla arbitrariamente un elemento in quanti modelli lo possiamo mettere in ordine uno lui non c'è altro modo quello ricorsivo generale il passo generale invece è abbiamo un'istanza del problema che è grossa che non sappiamo risolvere arbitrariamente allora qual è la strategia che cerchiamo di usare cerchiamo di ricondurre questo problema allo stesso problema ma più piccolo e una volta che abbiamo ridotto questo problema a un problema più piccolo in qualche modo troviamo la risposta del problema più grosso sfruttando la risposta del problema più piccolo come funziona adesso l'affare qua come cioè ok perfetto dicevamo che non so quant'era f di 7 perché era troppo difficile da calcolare a mano come possiamo sfruttare questa ricorrenza che abbiamo trovato adesso per calcolare f di 7 beh semplicemente usiamo il passo ricorsivo e il passo base quindi f di 7 quindi se sostituisco il 7 qua cosa viene verrà 7 per f di n-1 n-7 6 e 7 per f di 6 quanto fa? boh calcoliamo f di 6 f di 6 quanto sarà? sarà 6 per f di 5 f di 5 quanto sarà? boh sarà 5 per f di 4 e così via f di 4 quanto sarà? sarà 4 per f di 3 f di 3 quanto sarà? sarà 3 per f di 2 lo spazio sta finendo f di 2 quanto sarà? sarà 2 per f di 1 ma f di 1 quanto sarà? a questo punto lo sappiamo quanto è f di 1 perché f di 1 è il nostro caso base f di 1 è il nostro caso base questo sappiamo che fa 1 ma allora adesso che lo sappiamo possiamo mettere il valore di questo qua e beh questo qua quindi fa 2 perché 2 per 1 è 2 ma allora possiamo mettere questo valore qua al posto di questa f di 2 e questo qua ora sappiamo che fa 6 e così via 24 120 questo è tosto 720 credo e questo diventa out of reach forse 5040 se non mi ricordo male e ok e con questo quindi abbiamo trovato una ricorrenza abbiamo usato la ricorsione per creare una funzione che calcolasse la risposta al nostro problema questa è la base su cui si basa tutto quello che vedremo per una marea di lezioni non so quante però parecchie ok prima di andare avanti un attimo faccio un piccolo faccio una piccola diviazione su un minimo di prerequisiti matematici che mi serve che abbiate per poi andare avanti quando vi parleremo di altre cose quindi visto che quindi li vediamo oggi almeno così poi se avete domande potete fare successivamente allora confido che tutti sappiate cos'è un'addizione confido che tutti sappiate cos'è una sottrazione confido che tutti sappiate cos'è una moltiplicazione confido che tutti sappiate cos'è una divisione il quinto operatore che si usa in informatica è il modulo questo magari qualcuno di voi non sa cos'è semplicemente è il resto della divisione intera tra due numeri quindi se abbiamo per esempio che ne so 7 modulo 3 questa cosa qua quello che stiamo dicendo è qual è il resto della divisione intera fra 7 e 3 e beh in questo caso è 1 perché 7 diviso 3 fa 2 con il resto di 1 non so se abbiamo 17 modulo 5 7 modulo 5 è 2 per 17 diviso 5 fa 2 notare che normalmente questa è una cosa più calda perché i linguaggi programmazione normalmente sono così la divisione se non esplicitato diversamente è intera quindi se io dico 17 diviso 5 17 diviso 5 per me fa 3 ok perché la divisione è intera per ora non ci addentriamo in divisioni non intere diviso la divisione intera ok eraser eraser qua ok poi allora altra cosetta se noi abbiamo a alla b uguale c ok questa è un'equazione da questa equazione nascono un po' di operatori che adesso vediamo perché magari uno non lo conoscete e nascono tutti quanti dal voler calcolare una delle tre variabili date le altre due quindi se abbiamo a e b calcolare c è banale perché calcolare c è fare a alla b quindi vari modi poi ne vedremo di più efficienti ma fondamentalmente un modo per farlo è fare a per a per a per a quante volte b volte se conosciamo cos'altro possiamo fare potremmo conoscere quindi o a e c oppure b e c allora uno di questi due operatori è uno di questi due operatori è la radice quadrata e l'altro è il logaritmo quale è quale? chiedo voi quale è quale? almeno chi conosce la radice mi dica qual è quella della radice? a e c a e c è la radice? no la radice è b c la radice è b c chi offre di più? no ha ragione lui ha ragione lui allora pensiamoci un attimo in realtà ve l'ho chiesto a voi perché farlo così live in realtà ci si può confondere cioè può starci confondersi non c'è problema l'importante è fare le cose in modo sistematico per cercare qual è la risposta corretta mettiamo b e c b e c cosa ci stiamo chiedendo? per esempio potremmo chiederci qual è quel numero a tale che al quadrato fa 16 come risolveremo questo problema? lo facciamo con la radice? infatti la risposta di questo quindi è la radice b esima di c infatti se lo mettiamo qua dentro cosa viene fuori? c è 16 b è 2 e quindi la risposta a è la radice quadrata di c e ci torna però c'è un altro operatore che è appunto il logaritmo che è quello che risponde proprio a quest'altra domanda cioè se noi abbiamo ad esempio che ne so 2 alla b uguale a 32 ok quello è il valore di b e l'operatore del logaritmo risponde per questa domanda e si scrive e si scrive logaritmo in base b no non è vero perché non ce l'abbiamo b in base a di c e il logaritmo non è altro che una funzione che risponde a questa domanda in questo caso è abbastanza facile vedere che la risposta qua è 5 b in questo caso deve essere 5 ok e le radici sono abbastanza convinto che le conosciate tutti di idemi in contrario ma sono abbastanza convinto che le conosciate tutti magari logaritmo qualcuno lo conosce un pochino meno e ci interessa in realtà poco di sapere le proprietà dei logaritmi forse ce n'è una che ci interessa particolarmente che c'è anche qua sono giusto un paio di proprietà dei logaritmi che ci interessano la prima cosa è che il logaritmo di se non scrivo la base facciamo così scrivo sempre la base perché se no è bruttino il logaritmo in base a di un qualche numero b no guarda il logaritmo in base a di sì di un qualche numero b per qualche variabile x è uguale al logaritmo in base a di b più scusatemi che a destra della tavoletta diventa sempre peggio più il logaritmo in base a di x ok quindi prima proprietà il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi se non ci credete provateci per ora la mia l'unico modo di convincervi di queste cose delle basi matematiche è provateci vedete che è vero poi il logaritmo in base a di x alla b ok quindi di un esponente è uguale a b per il logaritmo di in base a di x quindi il prodotto il logaritmo di un prodotto diventa la somma dei logaritmi e invece il logaritmo di un di un x alla b diventa il prodotto tra b e il logaritmo di x queste sono le uniche due cose per ora che ci interessano ci torneranno utili dopo quando parleremo di cose tipo telecomplicità computazionale giusto per avere un po' delle basi dei logaritmi perché i logaritmi escono fuori parecchio bene come vi ho detto lezioni brevi vi lascio con un problema da pensare per domani cioè vi lascio un problema che può essere risolto con le pochissime cose che ci siamo detti oggi e ve lo lascio come esercizio cioè se volete fate se no non fatelo per domani è proprio un classico 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 esercizio e il problema è questo abbiamo un bagno che può essere visto come una lunga sequenza di n spazietti ok spazietto 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 e quante ce ne sono di questi spazietti n ok magari un pochino più dritta perfetto e voi volete piastrellare questo bagno e avete a disposizione un numero illimitato ne avete quante volete di piastrelle di due tipi il primo tipo è una piastrella uno per uno il secondo tipo è una piastrella uno per due quindi avete due tipi di piastrelle e un bagno lungueno da piastrellare volete piastrellarlo tutto quindi volete mettere delle piastrelle dentro facciamo che do dei colori alle piastrelle facciamo che questa qua la uno per uno è rossa e la due per uno è verde volete piastrellare questo bagno completamente senza ovviamente sovrapporre piastrelle cioè volete che le piastrelle siano tutte quante non una sopra l'altra quindi che ne so per esempio questo qua posso mettere una da uno qua posso metterne una da uno qua posso metterne una da uno qua e poi per esempio posso metterne una da due qua e un'altra da due qua questo è un modo di piastrellare la mia domanda è in quanti modi diversi posso piastrellare il mio bagno quindi voglio che le piastrelle non si sovrappongano e voglio che il bagno sia tutto piastrellato questo è il primo problema che vi lascio per domani in realtà erano due c'era il trick questo è il primo problema che vi lascio per domani il secondo problema che vi lascio per domani è lo stesso problema ma invece di avere due piastrelle ce le avete tutte quindi avete la uno per uno la uno per due la non mi ha preso il nero avete la uno per due la uno per tre la uno per quattro tutte quante fino alla uno per n perché ovviamente non potete piastrellare con un uno per n più uno perché non ci sta quindi avete tutte le possibili piastrelle e quindi il primo problema è in quanti modi posso piastrellare questo bagno lungo n usando solo piastrelle da uno e da due ok e l'altro problema è in quanti modi posso piastrellare questo bagno da n usando tutte le piastrelle che mi sono a disposizione bene poi ovviamente domani li riprendiamo cioè domani partiamo con la risposta a questi problemi domani facciamo alla stessa ora magari durerà un pochino di più e ci sono domande su qualcosa che ha detto oggi ok benissimo no